E ora lo sport, a breve il calciomercato entrerà nel vivo, il Pescara ha la priorità di sfoltire la rosa composta da 23 elementi, ma nel frattempo ha individuato alcuni giocatori che potrebbero essere utili al tecnico Gaetano Auteri. Nell'elenco del DS Maseassi ci sono tre giocatori uscita dal Monza che hanno chance di finire in riva all'Adriatico. Al Delfino infatti piacciono il difensore Stefano Negro, 26 anni, centrocampista Marco Armellino, 31 anni, attaccante Ettore Gilozzi, classe 95. Per tutti bisogna battere la concorrenza di altre società, sul Negro c'è l'interesse della Reggiana, per Armellino si è fatta avanti la Virtus Entella, su Gilozzi infine si registra il forte pricing del Modena e del Catanzaro. Per quanto riguarda la retroguardia si fanno anche i nomi di Luigi Carillo, svincolato dopo l'ottimo campionato a Caserta, Stefano Sconnamillo dell'Alessandria e Julian Ilanes della Fiorentina.